Ciao a tutti e benvenuti alla video recensione del Polti Vaporetto SB440 Double, una scopa a vapore di fascia di prezzo medio alta che potete trovare a un prezzo di circa 100 euro. Se foste interessate ad acquistarla su questa pagina potete trovare un link all'offerta. Questa scopa a vapore ha il vantaggio di essere maneggevole e compatta. Ha un peso di soli 2,4 kg e resta perfettamente in piedi da sola. Come potete vedere la spazzola ha un profilo con una forma a metà tra quella delle spazzole rettangolari e quelle triangolari e riesce a raggiungere agevolmente anche gli angoli. Nella parte superiore trovate questo piccolo serbatoio per il fresco vapor, il liquido profumato che potete inserire da qui e attivare nella diffusione schiacciando questo pulsante. Sul lato inferiore della spazzola c'è invece questo inserto con setole per rimuovere lo sporco ostinato dal pavimento. Tra gli aspetti positivi di questo modello notiamo anche lo snodo multidirezionale e la lunghezza del cavo di più di 6 metri che lasciano una libertà di movimento molto ampia. Il kit di accessorio in dotazione è davvero ampio e rende l'apparecchio versatile. Questa è la spazzola che abbiamo visto prima e può essere utilizzata su ogni tipo di superficie, anche su tappeti e moquette tramite l'apposito supporto. Per utilizzare tutti i componenti è necessario smontare il manico e la spazzola. In questo modo il prodotto diviene un vero e proprio pulitore a vapore su cui poter montare questi altri accessori. Il concentratore di vapore a beccuccio indicato per raggiungere i punti più inaccessibili grazie alla sua forma curva. Il concentratore a lancia utile per la pulizia di termosifoni, stipidi di porte e finestre persiane. La spazzola vetri da utilizzare per la pulizia di vetri o specchi. Lo spazzolino tondo grande e lo spazzolino tondo piccolo, utili per eliminare macchie resistenti anche dalle superfici delicate grazie alle setole. L'accessorio per fughe con inserti setolati posizionati in linea per seguire perfettamente il percorso della fuga e il tubo flessibile per ampliare il raggio d'azione. Ci sono poi due panni, il classico panno in microfibra per la pulizia di ogni tipo di pavimento e il panno piccolo per la pulizia dei vetri e imbottiti. Infine c'è questo flaconcino e fresco vapor di cui abbiamo parlato in precedenza. Vediamo ora come funziona il prodotto. La prima cosa da fare è riempire il serbatoio, la cui capienza è di soli 0,3 litri, quindi l'autonomia non sarà delle maggiori, soprattutto se avete una casa grande. Bisogna poi attendere circa 15 secondi che l'acqua sia diventata vapore, come segnalato dall'apposita spia. Tramite questo selettore si può inoltre regolare il flusso del vapore, così da adattarlo al tipo di pulizia che dovete effettuare. Concludiamo dicendo che si tratta di un prodotto due in uno, ovvero non solo da utilizzare come scopa a vapore per pavimenti, ma anche come vero e proprio pulitore per rigenizzazione di tantissime superfici. L'aspetto forte di questo vaporezzo è la versatilità, motivo per cui lo consigliamo a chi voglia pulire qualsiasi tipo di pavimento, ma anche i sanitari, i tappeti, gli interni dell'auto, dentro e tanto altro ancora. Vi segnaliamo però che non è ideale per case ampie o per grandi pulizie, a meno che non siate disposti a ricaricare il serbatoio con una certa frequenza. Grazie per averci seguito, alla prossima, ciao!